Ciao, mio nome è Gianni Massi, ho studiato in Avellino con Lucio Madarazzo e questo video è ripetito per la compagnia di Peia Guitare. Sparerò per il periodo contemporaneo della musica Angelo Gigliardino, Hommaggio a Bella Bartók e per Mario Castelnuo del disco, Hoseico del Maestro e Novo Remedio, da 24 Capitoli di Gloria. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.